5.150 Sanicandro, parere contrario 5.201, Ferraresi Parere favorevole 5.151, Molteni Parere favorevole 5.152, Molteni Parere favorevole 5.200, Ferraresi Parere favorevole 5.153, Molteni Parere favorevole 5.154, Molteni Parere contrario La ringrazio il Governo Pareri conformi al relatore di maggioranza La ringrazio 5.150, Sanicandro Se non ci sono interventi lo pongo in votazione Pareri contrarie di Commissione Governo relatore di minoranza Dichiaro aperta la votazione Chi non riesce a votare? Mi pare che abbiano votato tutti Sembra di sì Dichiaro chiusa la votazione 27 favorevole 392 contrarie La Camera respinge 5.201, Ferraresi E altri Pareri contrarie di Commissione e Governo Favorevole Relatori di minoranza Non ci sono interventi Dichiaro aperta la votazione